Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono 2 km di coda tra Empoli e Montelupo-Fiorentino e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze e 1 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo in direzione Livorno. Sempre in FIPILI per lavori è chiusa l'entrata di Empoli in direzione Firenze fino alle 16 di oggi. Rallentamenti per incidente tra Colle Salvetti e Interporto Toscano-Est in direzione Livorno. In A1 in direzione Roma tra Valdichiana e Chiusichianciano ci sono 1 km di coda per lavori e si è verificato anche un incidente. Rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano-Sesto Fiorentino in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!